ciao ragazzi e benvenuti in questa nuova puntata di contatori del tempo un episodio dedicato al doxa sub 300 beta non è la prima volta che porto un sub 300 qua sul canale perché in precedenza avevo portato il doxa sub 300 armi che era una versione limitata molto particolare molto un quadrante che deve piacere e insomma se devo essere sincero preferisco quello che sto portando oggi che è anche lui è molto particolare con meno con l'altra molto particolare questo è molto particolare perché perché ha una lavorazione del quadrante della ghiera che mi hanno colpito mi hanno sinceramente attratto a un certo appeal questo orologio nei miei confronti quindi quando l'ho visto il negozio lì dal buon giacomo che è parte un ufficiale del canale cioè la gioielleria pasquale domenici di viareggio l'hanno messo a disposizione no io l'ho preso e l'ho portato a casa per fare questa panoramichina perché mi piace molto tra l'altro e sono rimasto anche un attimino sulle mie perché ce n'è una marea di versioni penso siano 369 12 15 15 versioni tra cinturini bracciali colori quadrante accenti una marea ce n'è quindi ho cosa ho scelto ho scelto quello col quadrante nero sono veramente sempre il solito scontato banalotto però con gli accenti arancioni perché secondo me l'arancione un po il colore di doxa quindi quadrante nero e accenti arancioni e secondo me è il suo proprio è proprio carino mi piace molto ora detto questo passiamo subito alla panoramica tra l'altro poi ci sono anche delle considerazioni da fare sul colore del quadrante e sulle sfere che faremo alla fine se è il caso però intanto vi faccio vedere l'orologio del giorno che oggi ciò che il cappellino è panda il mio bellissimo bright ring cronomat gmt da 40 millimetri con il suo quadrante blu soleil la sfera gmt rossa il bracciale quando dico bracciale mi viene anche la è la remu bracciale rollo ho detto che a cartucci era così proprio all'italiana a cartucci mi piace un bello orologio ci piace a tutti questo costa però ci piace ora giriamo la camera diamo un'occhiatella a questo sub 300 beta sembra beta sembra quasi una versione no di prova versione beta no no è proprio catalogo anzi non è limitata è proprio catalogo e poi ci troviamo qua dopo per le considerazioni finali apriamo le danze narrando dei risultati frutto della faticosa misurazione sul campo diametro cassa 42.5 millimetri spessure 11.9 ingombro trasversale al polso 44.5 interasse ansa da 20 millimetri misure che ci riconducono ad un aspetto sì di un diver contemporaneo ma senza esagerare soprattutto perché la resa al polso è tutto sommato equilibrata grazie al fatto che la ghiera rappresenta un diametro di circa 38 millimetri ed è proprio quel nero opaco a dare un senso alla buona indossabilità se poi vogliamo entrare nel dettaglio occorre rimarcare che lo spessore è piuttosto esiguo 11.9 millimetri per un diver 300 metri in acciaio sono veramente pochi e il risultato al polso ce lo conferma una cassa a cuscino che scivola via affusolata e lungilinea spalmandosi per tutta la lunghezza danza a danza un design peculiare degli anni 70 che qui si pone però come propedeutico la contemporaneità l'aspetto generale dell'orologio gode infatti di uno stile al passo con i tempi probabilmente grazie a quella lunetta in ceramica che gli conferisce un'area meno vissuta più moderna e soprattutto grazie all'alternanza acciaio e nero che trova il suo culmine nel vivido contrasto tra corona di carica e cassa trovo molto interessante questa soluzione il nero della ghiera che si alterna con l'acciaio della cassa per tornare poi alla corona all black mi piace se poi vogliamo anche la valvola per l'espulsione dell'elio posta sul lato carour va ad aggiungere quel tocco di tecnologia e progresso che lo distingue dagli orologi del passato sono infatti le caratteristiche tecniche a dirci che si tratta di una sorta di tool watch oltre alla valvola abbiamo ghiera girevole a 120 scatti corona e fondello a vite il tutto per garantire ben 30 atmosfere di impermeabilità un dato importante che va però a braccetto con una certa stilosità dell'orologio a cominciare dalle finiture della parte superiore della cassa che vedono una spazzolatura concentrica molto ben visibile non tanto per il passo della satinatura che risulta negli standard ma quanto per l'elevata superficie a disposizione merito della cassa a cuscino chiaramente inoltre sono anche i giochi cromatici a restituirci una sensazione di qualità percepita sopra la norma la ceramica opaca è una soluzione poco vista e direi indovinata soprattutto perché si è poi scelto di utilizzare una finitura differente per gli accenti ivi presenti sia i numeri in arancione che quelli in nero risultano infatti scavati nella ceramica stessa e a finitura lucida questo insieme di elementi rende il tutto particolarmente originale e poco assimilabile ad altri design presenti sul mercato a parer mio si tratta di uno dei punti forti dell'orologio lasciatemi poi spendere due parole sull'ottima manovrabilità delle componenti mobili la ghiera ha una rotazione forse un po secca ma precisa e nitida così come manovrare la corona risulta piacevole senza intuppi in entrambe le situazioni il grip è veramente ottimale nulla da dire solidità e presa ineccepibili da notare poi che è la cassa stessa a proteggere la corona che così incassata difficilmente potrà subire un urto che possa danneggiarla le soluzioni cromatiche fin qui viste vengono poi riprese anche nel quadrante laddove il nero e l'arancione la fanno da padroni iniziando proprio dal fondo che vede delle incisioni orizzontali a forma di onda andare a riempire tutto lo spazio disponibile una soluzione che esalta la profondità delle linee senza apparire esageratamente visibile si tratta di una lavorazione piuttosto sobria che da lontano non appare nemmeno tale e se state pensando all'omega simaster vi devo dire no non è per nulla simile qui è molto più fitta e meno invasiva al di sopra ci sono poi quei toky orange che connotano fortemente la resa visiva iniziamo dal logo e dalle deciture sono posizionate curiosamente ad ore 2 e ad ore 5 circa collocazione inusuale che però mi trova favorevole apprezzo questa scelta la trovo dinamicamente moderna non potevo poi mancare la sfera dei minuti sovradimensionata come da stile doxa in bella vista con il suo arancione inconfondibile che mira ad indicare i tempi di immersione sulla ghiera lavoro che svolge egregiamente viene invece a mancare la leggibilità della sfera ore in nero lucido tende un poco a confondersi con il quadrante occorre fare riferimento alla sua base che appare bianca e a contrasto si fa comunque fatica a scorgerla colpo d'occhio e questo è sicuramente un aspetto migliorabile di questo orologio ma nelle conclusioni in coda al video vi dirò di più è invece riconoscibile in assenza di luce in quanto risulta palese che quella sottile striscia di super lubinova svolge il suo dovere tra l'altro ogni elemento del quadrante appare ben visibile mentre sulla ghiera solamente il dot ad ore 12 riesce a restituirci luminescenza anche se di intensità inferiore rispetto al resto probabilmente l'arancione è meno efficace mi era già capitato con il sub 200 non ho ancora fatto riferimento al calibro e chiaramente non c'è niente di nuovo sul fronte occidentale si tratta del classico eta 28 24 di fornitura che equipaggia la maggior parte degli orologi dox calibro ultra conosciuto e sul quale nomi di lunghero vorrei precisare che tutte le fonti disponibili riportano questo calibro il mio unico dubbio è che possa trattarsi di riferimenti del passato che si tramandano senza aggiornamenti sulla fiducia diciamo personalmente mi sorge il timore che nel tempo possano essere diventati dei sellita sv200 ma è solamente una mia supposizione speculativa e di certo non cambierebbe i valori in gioco tra l'altro non è mai possibile avere la controprova visiva perché doxa che io ricordi non propone orologi con fondello trasparente come in questo caso d'altronde un bel solido e massiccio fondello in acciaio con al centro l'usuale basso rilievo raffigurante l'imbarcazione che sin dagli anni 60 accompagna la casa non rimane che parlare del bracciale e qui si vola alto il chicchi di riso è ormai una peculiarità degli orologi doxa e la loro versione particolarmente ben fatta lo spessore è sopra la media questo non è necessariamente un pregio ma è sicuramente un parametro ben dimensionato rispetto alla testa orologio occorre poi dire che le maglie sono assemblate utilizzando dei perni a vite e che ogni elemento della chiusura è ben dimensionato solido e resistente ciliegina sulla torta la prolunga per indossabilità esterna che a scorrimento rapido basta premere i due pulsantini laterali per accorciare e allungare a piacimento una caratteristica tecnica volta ad utilizzarlo come tool watch e non intesa come una regolazione fine del bracciale vera e propria in quanto parte della superficie interna rimane a vista se però sarete disposti a sopportare questo minus allora potrete utilizzarlo a piacimento in ogni occasione possiamo tornare presa diretta per le considerazioni finali personalmente non avrei problemi ad utilizzarlo con la prolunga come regolazione fine ma non è un problema ma anche se si vede questo spezzone che esce per me proprio zero anzi soprattutto per il fatto che è un orologio che non si indossa con un abito elegante non si indossa in certe situazioni formali per cui uno ti guarda al polso vede che spunta un pezzettino di lamiera acciaio da prolunga no proprio no questo orologio qua lo indossi tutti i giorni oppure al mare oppure in barca insomma in situazioni particolari quindi se gli spunta questo pezzettino qua a me non mi fa proprio nessuna né caldo né freddo anzi la comodità è proprio che puoi anche regolarlo al polso perché avendo i pulsanti esterni non lo togli neppure dal polso schiacci i pulsantini e lo regoli comodo altri orologi tipo il mio omega devi toglierlo premere da dentro allungarlo e poi rimetterlo no quindi potresti anche non trovare la posizione giusta tra l'altro tutti questi orologi che hanno la regolazione fine bello 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 però è un po' una condanna perché quando hai un orologio così con la regolazione rapida e non fai altro che stare a regolarlo no adesso non mi va bene sì adesso va bene ora cambia la temperatura o no è una condanna mentre invece se non ce l'hai anche se è un pochino largo lo tieni così dici lo tengo così è uguale e ci vivi lo vivi la giornata senza problemi così invece sei sempre a regolare poi qual è il punto altro punto debole è la sfera delle ore nera che si confonde su quadrante si legge si age a fatica ragazzi questo lo vedo anch'io è tal proposito volevo dirvi che tra le varie declinazioni che ci sono ci sono quelle con il quadrante blu e con il quadrante bianco che hanno la sfera delle ore a contrasto ecco quello blu c'è la sfera bianca e quello bianco avendo la sfera nera come questo però è a contrasto e si vede quelle due versioni lì si legge benissimo nelle altre invece il quadrante è nero e la sfera è nera e si fa fatica quindi se voi siete tra coloro i quali desiderano non far fatica quando si guarda l'ora allora scegliete quelle due versioni lì bianca o blu quelle lì si legge bene 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 poi per il resto quali sono altri punti deboli no non ci sono altri punti deboli ha il dot arancione sulla ghiera il dot arancione sulla ghiera che si illumina ma poca luminescenza l'avete visto e quando ho recensito il sub 200 è il sub 200 che ha tutti i numeri luminescenti sulla ghiera avevo scelto la versione arancione e faticavano invece per ho avuto la testimonianza di chi aveva la versione gialla bianca di altri colori la luminescenza era totale quindi a parer mio è l'arancione che crea del fastidio nella luminescenza in casa d'oxam che poi il suo colore eppure cioè si vede l'avete visto si vede il dot è quando devi regolare per fare una immersione lo vedi dove però un po meno del resto poi per il resto è un orologio fatto bene qualità elevata cioè il fatto della ghiera in ceramica opaca è una figata mi piace mi piace un casino specie questa questo contrasto tra ghiera nera cassa acciaio che è a cuscino quindi c'è un sacco di acciaio e il nero della della corona un contrasto una ripresa che mi piace mi piace mi piace tanto bello assai qualità poi uno se ne parla le finiture il bracciale a una chiusura così altre punti negativi l'ho già detti a parte il calibro il calibro qua di tutti dicono età 28 24 tutti dicono età 28 24 però mi sorge il dubbio che a un certo punto poi se età finiscono e dentro ci dove ci potrebbe essere anche un 6 litre 6 v200 non cambia niente sono equiparabili però la mia curiosità anche in questo caso mi porterebbe ad aprirne uno cosa che non posso fare perché chiaramente non è mio e vedere un po che calibro c'è dentro se c'è veramente un 28 24 avete visto certe immagini proprio riportano sono immagini del 21 quindi non è che siamo distanti 24 23 potrebbe essere come no comunque non è da considerare appunto tempo poi ragazzi tutte le caratteristiche ve le ho messe li ho fatto vedere le immagini le macro è tutto quello che devo fare l'ho fatto e poi a certo punto decidete un po da soli non è che posso dirvi tutto io cosa fare a me mi sembra di aver detto tutto quindi torniamo indietro un attimo boh mi sembra di aver detto tutto vi ringrazio per essere arrivati fino qua spero vi sia piaciuto il video o l'orologio o perlomeno il presentatore diciamo almeno il presentatore se no non sareste qua no e vi ricordo gli appuntamenti fisiche come sempre sono quando voglio il più spesso possibile qui su youtube love iscriviti al canale